La chitarra, le voci, la strada, il deserto, le luci, città. Francesco Salvadori, l'Eneas di Henry Parcell. Qual è il fascino di questo personaggio? Io mi trovo qui a Bologna ad affrontare un ruolo molto particolare, anche strano direi, molto strano, e forse anche unico, almeno per il repertorio che conosco io, non trovo un altro caso simile, perché si tratta di un ruolo titolo, ma che è molto poco presente, molto poco presente per essere un ruolo titolo, diciamo solitamente quando il nome del personaggio sta sul titolo dell'opera, c'è molto da cantare, il personaggio è molto presente, ci sono lunghe arie, lunghi duetti, insomma molti momenti di scambio con il pubblico. Non è il caso dell'Enea di quest'opera. Mi sono lungamente domandato il perché questo personaggio fosse così poco presente, cioè molto presente nelle parole degli altri, è molto evocato, è molto atteso, però poi quando arriva c'è poco, c'è poco da cantare, per quanto quel poco sia molto bello, non c'è un'aria, e neanche un vero duetto, nel senso che Enea fa soltanto recitativi, poi molto larghi, molto cantati, ma pur sempre dei recitativi, e questo è molto molto strano, da una parte forse anche un pochino frustrante, ma mi ha, diciamo, obbligato a domandarmi il perché fosse così e a trovare un significato. Mi sono dato due possibili risposte. Una prima risposta è che il compositore volesse creare un'opera dove di donne sta al centro di tutto, quindi un'opera quasi solistica, diciamo, e di conseguenza il partner, il partner di titolo, doveva essere presente più come simbolo, come immagine, più come evocazione anche da parte degli altri personaggi, che non come presenza proprio fisica e musicale, proprio per fare in modo che fosse il personaggio femminile a venire fuori con maggiore forza, no? E questa è una possibilità, e credo che sia anche quella che la nostra regia ha deciso di approfondire. Un'altra possibilità, e merita di spenderci due parole, è questa, e cioè non bisogna dimenticare che noi siamo di fronte a uno spartito veramente molto strano. Il nostro direttore l'ha chiamata di donne opera aperta, credo a giusto titolo, perché stiamo parlando di una composizione della quale noi non sappiamo niente. La di donne che suoniamo oggi si basa su due lavori di due copisti che sono vissuti un secolo dopo la data nella quale l'opera è stata creata. Un secolo è tantissimo, quindi è un'opera della quale noi non abbiamo assolutamente certezza, non c'è pervenuto niente direttamente dal compositore, non c'è un manoscritto autografo, non c'è l'orchestra, quindi è veramente un materiale estremamente povero, ed essendo che questi due copisti hanno fatto questo lavoro un secolo dopo, tocca anche chiedersi quanta sia in fondo l'attendibilità di queste fonti, quanti errori ci possono essere e addirittura io mi spingerai anche un po' oltre, quanta di quella musica sia effettivamente di Parcell. Questo rende quest'opera totalmente unica e mi sono a tratti domandato se anche questo aspetto un po' bizzarro del mio personaggio non si è anche dovuto a questo, cioè se ci fosse arrivato il manoscritto di Parcell l'opera sarebbe veramente stata così, o forse magari sarebbe stata più lunga, magari mancano dei pezzi, magari è un'incompiuta, ci sta un po' tutto. Io trovo abbastanza affascinante che si possa valutare anche questa ipotesi, d'altronde questo abbiamo per le mani e questo bisogna suonare, ma trovo che comunque non tolga fascino all'opera, anzi il minimo che possiamo dire è che sia un'opera molto emblematica e decisamente unica per tutti questi elementi particolari che ha nel panorama del repertorio operistico. Per quanto riguarda la disuna di Bologna nello specifico trovo che la regia di Daniele Abbado abbia colto in pieno questo punto, non ha di conseguenza esasperato l'aspetto dell'amore romantico tra i due, giustamente, perché nella musica non c'è, l'opera è molto spedita, non si sofferma, non c'è un vero dueto d'amore, non ci sono, ma è molto strano quello che è scritto e di conseguenza rimaniamo su qualcosa di estremamente sobrio, dove anche alla fine, quando Enea deve partire e cerca di dire, guarda, quasi quasi resto, visto che questa cosa ti fa soffrire, in realtà non glielo dice con vera convinzione, quindi è un Enea mosso da forze superiori, che sono gli dei che gli dicono che lui deve compiere il suo cammino e dove quindi non c'è, diciamo, l'aspetto della coppia, di questa passione, non è molto sottolineato dalla regia e devo dire che sono molto d'accordo con questo aspetto perché non è sottolineato neanche dalla musica.